1958, tutto quello che chiedevano era solo un'ora d'amore. Travolgente e passionale, un film ambientato in un'Italia alle solle del boom economico. 1958, storia della legge Merlin, con Pietro Fornaciari, Novello Novelli, Nichi Giustini e Guido Genovesi, e con la partecipazione straordinaria di Solange. Il nuovo film del regista Antonio Cristiano, musica di Claudio Di Paco, prossimamente al cinema. Grazie a tutti.